Questo è il nostro Padre, il Dio che ci aspetta. Sempre? Ma Padre, io ho tanti peccati, non so se Lui sarà contento, ma provati. Se tu vuoi conoscere la tenerezza di questo Padre, vada a Lui e prova, poi mi racconti il Dio che ci aspetta. Il Dio che aspetta è anche il Dio che perdona, il Dio della misericordia. Non si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Ma almeno si stanca. Settanta volte sette. Sempre. Avanti col perdono. E dal punto di vista di un'azienda, il bilancio è negativo. Ovvero, Lui sempre perde. Perde nel bilancio delle cose. Ma vince nell'amore. E dal punto di vista di un'azienda, il bilancio è un'azienda. E dal punto di vista di un'azienda.